Ricordo benissimo quando vidi lo spettacolo Il Muro di Mare Marco al Diego Fabri di Forlì e mi emozionai tantissimo e pensai che sarebbe stato un docufilm fantastico. Fortunatamente un anno dopo ci siamo ritrovati io e Riccardo Salvetti assieme al team di Horizon a realizzare appunto il docufilm sulla storia del muro di Berlino. La mia esperienza con Riccardo è stata più o meno la stessa di Ruanda salvo una piccola grande differenza il fatto che mi sono ritrovato sul set insieme alla troupe. Riccardo mi ha voluto sul set per effettuare il montaggio direttamente in location. Questo perché la scadenza era molto imminente e questo è anche perché volevamo sperimentare un nuovo metodo di lavoro in modo da avere un feedback sia io che Riccardo sul set in tempo reale. Io montavo in base alla sceneggiatura le scene mentre le giravano in questo modo potevamo accorgerci subito se qualcosa funzionava o qualcosa andava cambiato oppure potevo fare a Riccardo delle proposte creative, potevo avere una controproposta, potevo essere d'aiuto per la troupe a livello di feedback. Ormai con Riccardo c'è un rapporto quasi simbiontico, uno quasi finisce le parole dell'altro, c'è uno scambio creativo continuo, è un piacere lavorare con lui perché ci intendiamo al volo, non ci accontentiamo mai di quello che abbiamo. Da questo progetto mi aspetto delle belle cose perché è un progetto secondo me molto molto stimolante anche dal punto di vista narrativo. C'erano più piani di narrazione, avevamo il piano narrativo della fiction, il piano narrativo però anche delle interviste, interviste che erano molto emotive, testimoni che hanno vissuto quell'esperienza, quindi anche una narrazione oggettiva se vogliamo, che era però da mescolare, da inframmezzare comunque con la parte fiction. Penso che ci siamo molto contenti del lavoro che abbiamo fatto, siamo molto soddisfatti e crediamo che il film ci darà grandi soddisfazioni.